Costruita in Italia con oltre il 65% dei componenti provenienti dal nostro paese arriva la Microlino. La microcarra 100% elettrica, che può essere già guidata a 16 anni, entra nel panorama delle vetturette da città, insieme alla Citroen Ami, la Fiat Topolino, la Renault Twizy e la Opel Rox E. L'autonomia, variabile in base alle batterie scelte, va dai 90 ai 230 km, mentre la velocità massima è di 90 km orari. Con un prezzo di partenza che si attesta su 21.000 euro, escludendo eventuali incentivi, sicuramente non può definirsi un'auto popolare. ma saremo a vedere nel corso del tempo come verrà accolta dal mercato.